Cucine monoblocco mondo convenienza catalogo 2024 Scopri i modelli di cucine monoblocco nel catalogo mondo convenienza 2024 adatti a spazi ridotti o estesi sono disponibili in diverse misure e design per incontrare ogni gusto ed esigenza Un esempio è la cucina Atena, versatile, disponibile in diverse dimensioni e colori con un prezzo variabile in base alla tipologia dalle piccole dimensioni di 180 cm fino alle grandi di 255 cm completa di elettrodomestici La cucina Stella offre diversi modelli con misure variabili da 240 a 360 cm è personalizzabile nelle composizioni e sostiene la scelta di elettrodomestici da incorporare per sfruttare ogni centimetro di spazio disponibile Infine la cucina Sally, con un solo colore disponibile ma con tre diverse misure e composizioni da 255 a 360 cm completa di forno, piano cottura e frigorifero Ogni cucina mondo convenienza è un connubio di design e funzionalità Grazie a tutti